L'incontro è stato aperto dal presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, che ha salutato con entusiasmo l'iniziativa, che vede cooperare sinergicamente anche associazioni datoriali e sindacali, istituzioni scientifiche, enti previdenziali ed assistenziali, centri di cultura, scuole, università, istituti di ricerca, gli enti locali interessati e le imprese della filiera ittica. Durante l'incontro il presidente del distretto della Pesca, Giovanni Tumbiolo, ha letto un messaggio del professore Roberto Lagalla, componente del CDA del Consiglio Nazionale delle Ricerche, partner del progetto. Presenti tra gli altri Giuseppe Pernice, coordinatore dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, l'assessore alle attività produttive del comune di Campopelo di Mazzara, Vito Ferreri, ed il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. Io ho notato oggi qua in questa riunione, in questo convegno, con molto piacere che aderiscono ben volentieri tutte le associazioni, i comuni di Marsala e di Petrosino, oltre al comune di Campobello, le università a cui hanno molti professori in grado di poter illustrare e mettere su dei progetti che siano da volano per quanto riguarda poi le aziende che si devono adeguare e quindi far sì che questi progetti diventano propri per portare avanti delle iniziative. Quindi ritengo che la partecipazione dei comuni, cui ci sarà da parte nostra e da parte dei comuni che ne fanno parte, sicuramente il supporto politico e istituzionale, è molto positivo a supporto di tutto quello che saranno poi le iniziative e i progetti che saranno presentati come patto di sviluppo distrettuale. Bisogna far passare il messaggio dell'importanza dell'uso del pesce perché non basta dire il mercato, il mercato si conquista se la gente capisce l'importanza del pesce nella salute, nella qualità della vita che è fondamentale e allora ieri abbiamo aderito, abbiamo fatto una delibera quindi noi aderiremo e adesso parteciperemo a tutte le iniziative in modo che anche i nostri pescatori, a Marsala c'è il problema della quota tonno, in questi giorni ci incontriamo, aspettiamo da Bruxelles delle notizie, il giorno 22 avremo un incontro con l'assessore regionale Craculisce e anche con la deputata europea che si occupa di ricoltura e quindi dico è fondamentale per lo sviluppo della città.